C'era anche l'anarchico fanese Riccardo Orciani nella vicenda legata a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due italiani condannati a morte negli Stati Uniti nel 1927. A fare questa scoperta è stato lo scrittore Dante Piermattei, che ha voluto dedicare un libro dal titolo L'Uomo del Sidecar, che racconta la storia di questa malagiustizia alimentata dai pregiudizi politici e razziali. Orciani venne arrestato con loro a Bosto nel 1920 e da lì presa via il percorso processuale destinato a portare poi alla sede elettrica i due amici e a costruire, assieme alla fama, il mito incancellabile. Da che cosa è nata l'idea di scrivere questo libro? Dunque, l'idea è nata in maniera proprio del tutto casuale. Io avevo curato una mostra di personaggi fanesi scomparsi per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e avevo preso una foto di un carrettiere, così, anche per illustrare gli antichi mestieri, eccetera, eccetera. Una sera, mentre appunto la mostra era aperta, c'era la gente che naturalmente stava guardando le fotografie, mi si avvicina un tizio mai visto e mi dice, vede, indicando il carrettiere, dice, quello è mio nonno, è Riccardo Orciani ed è stato arrestato con sacco e vanzetti. Cosa che ho chiesto in giro, nessuno lo sapeva, quindi ero un anarchico. Da lì è nata l'idea di ricostruire un pochettino la storia, non è stato semplice perché di materiale ce n'è pochissimo in giro. Tra l'altro, appunto, questo libro che viene fuori è un po', diciamo, l'unico profilo biografico del personaggio che è stato appunto arrestato con sacco e vanzetti. Lui è stato però prosciolto in istruttoria perché i suoi dottori di lavoro, lui lavorava in una fonderia, americani, avevano testimoniato che lui non poteva essere presente alla rapina. Il volume, che contiene anche decine di foto storiche e documenti d'epoca, sarà possibile acquistarlo in libreria ad un prezzo di 12 euro.